Buongiorno a tutti e benvenuti al Tech Day di Codemotion Training, da parte mia e di tutto lo staff di Codemotion Training. Oggi ci saranno otto speaker che vi daranno, avranno otto talk diversi, quindi bando alle change, iniziamo subito dalla parola al primo speaker, Carlo Veschi. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia, grazie a tutta la crew del Codemotion per aver organizzato questa giornata. Sto iniziando a condividere lo schermo con voi, se qualcuno dovesse avere qualche tipo di difficoltà tecnica può farcelo sapere, in particolare utilizzando il panel, il pannellino, quello delle domande che avete all'interno del tool. Quindi, partiamo. Di cosa vorrei parlarvi oggi, in questa prima oretta, o meglio vorrei cercare di interagire con voi su questo argomento. Come oggi, nel 2015, oggi, questo momento del tempo, possiamo approcciare lo sviluppo dei nostri prodotti, in particolare per quello che ci riguarda, che è un po' il dominio che c'è più familiare nel mondo dello sviluppo software, nella misura in cui, per tanti di noi, questo significa lavorare in contesti di team distribuiti. Quindi, tra un po' vedremo un po' meglio cosa intendiamo con questa definizione, però sostanzialmente quando non siamo tutti fisicamente all'interno dello stesso spazio, dello stesso ufficio. Brevissimamente su di me, io sono Carlo Beschi, ne ho noto anche online come Carlos, ho un background di sviluppo software, in particolare web front-end, poi ho fatto un po' di project management, negli ultimi anni, invece, soprattutto, mi interesso di organizzazione del lavoro, supporto ai team e alle aziende in generale, per, diciamo, cercare sempre di trovare approcci migliori all'organizzazione del lavoro, più produttivi, più sostenibili, più di successo. Quindi, la domanda chiave di questa sessione è, funziona, quindi, lo sviluppo di prodotto, la creazione di prodotti in un contesto distribuito. E partiamo un attimino indietro, nel senso che non siamo i primi a affrontare questo tipo di sfide, e c'è qualcuno che ci ha provato in passato, anche se magari in contesti un filo diversi, però vedremo che ci sono degli interessanti punti di contatto. In particolare, c'è questa azienda, che è un'azienda che esiste ad oggi, è oggi una delle, tra l'altro, le più grosse realtà nel mondo retail, in Canada, che ha lavorato in modo distribuito dal 1670. E, di fatto, era un'azienda che aveva gli headquarters a Londra, e aveva tutti questi mercanti che, nel Nord America, che è in quello che oggi è il Canada e gli Stati Uniti, commerciavano pellicce, cioè pelli di animali, con gli indigeni del posto, e poi queste cose venivano spedite a Londra, venivano fatte delle pellicce per i londinesi e per gli inglesi. E quindi ci sono delle ricerche, anche delle ricerche universitarie attuali su questa azienda, e è interessante vedere come si evince che il modo in cui sono riusciti efficacemente a costruire, a sostenere, a far crescere un business di successo già secoli fa, è centrato sulla modalità in cui si riesce ad avere la fiducia all'interno dell'azienda, dell'organizzazione, a esercitare delle forme di controllo e quali erano dei buoni modi per assicurarsi che questa cosa funzionasse, a avere delle appropriate politiche, delle pratiche, in verità, della parte del hiring, quindi del reclutamento delle persone, della comunicazione interna all'azienda e della partecipazione, sia alla vita dell'azienda che alla vita delle comunità locali. Ecco, questo giusto per fare una connessione storica che penso sia importante. In verità, noi il nostro focus chiaramente è volutamente più specifico, quindi ci interessa più l'oggi, ci interessa più la nostra industria, e in particolare anche per quello che riguarda un po' quello che è il mio background, è la mia, se vogliamo, anche convinzione rispetto al fatto che degli approcci emergenti, oggi sempre più mainstream di fatto, allo sviluppo dei prodotti, quelli che vanno un po' anche sotto il nome degli approcci agili, degli approcci lean, possono sposarsi bene con questa idea di lavorare in un modo distribuito, quindi lo sviluppo di prodotto distribuito si sposa bene con questa idea di sviluppo dei prodotti che cerca di mettere molto al centro le persone, cerca molto di focalizzarsi sul fatto di avere una comunicazione efficace e a banda molto larga, cerca molto di fare le cose un pezzettino alla volta tutti insieme. Vediamo un esempio interessante, sicuramente molto più vicino a quello che facciamo noi, con qualche differenza, nel senso che non stiamo parlando in questo momento di un prodotto sviluppato come prodotto di un'azienda, ma stiamo parlando di un'iniziativa open source, comunitaria, però di un'iniziativa enorme, una cosa che negli anni 90 è stata proprio grossa grossa, nel senso di cui ancora oggi beneficiamo, ma che se pensiamo anche da un punto di vista banalmente di tecnologia e di rete internet, quello che avevamo 15, addirittura 20 anni fa, cavolo, era veramente molto più ridotto rispetto a quello che abbiamo a disposizione adesso, come banda, come strumenti, come computer, eccetera. Eppure, cavolo, questa cosa ha funzionato benissimo. Poi io man mano cito un po' di casi e vedremo alla fine ci sono i riferimenti alla letteratura, agli studi che sono stati fatti, perché chiaramente anche questa iniziativa, non guidata da Linus Torval, ma totalmente decentralizzata, in cui hanno contribuito, contribuiscono migliaia di persone in tutto il mondo, è stata studiata ovviamente, e tanti si sono anche domandati, c'è qualcosa che possiamo prendere come spunto, come punto di riferimento per il nostro lavoro all'interno delle aziende, delle organizzazioni, per come lavorare bene. Quindi alcuni dei concetti chiave che escono dagli studi fatti sullo sviluppo del kernel di Linux, ok, l'internet, quindi la rete che è nata in quegli anni, intesi come spazio pubblico di condivisione, come enabler, come qualcosa che ha reso possibile questo tipo di collaborazione. Invece proprio l'approccio, quello dell'open source, qua adesso senza entrare tanto nel dettaglio, è un tema chiaramente interessantissimo, tutta la questione dell'ok, del copyleft, e quindi come vengono gestiti i contributi di ciascuno, qual è il tipo anche di, oltre che di condivisione, che tipo di incentivo che hanno le persone, no? Perché tra l'altro un lavoro volontario si basa molto su, lo faccio perché mi sento orgoglioso di fare questa cosa, lo faccio per la gloria, si dice, e sicuramente non su un sistema di incentivi di tipo economico. Quindi è una comunità che ha collaborato a far crescere questa cosa, con una leadership molto forte, molto chiara, con una visione e con una totale però apertura e trasparenza all'interno del grandissimo team distribuito che ha costruito e fa evolvere l'interno di Linux, ma pensiamo ad anche altri progetti open source, non so, pensiamo a Ruby on Rails, per dirne uno un po' più recente. La modularità, intesa come la possibilità di lavorare anche su tante parti diverse, con un numero limitato di dipendenze, da poter poi man mano tenere assemblate e integrate, e la condivisione della conoscenza all'interno di comunità di pratica. Quindi un modo per fare sì che, ok, ciascuno fa il suo pezzettino, però impariamo anche dagli altri man mano che gli altri stanno facendo qualcosa di simile o che hanno degli skills che sono simili ai nostri e quindi ci possiamo confrontare, possiamo imparare gli uni dagli altri. Giusto per fare un po' di chiarezza, comunque per capire di cosa, come vogliamo chiamare alcuni dei concetti che vediamo oggi in questa sessione, anche perché si sente appunto parlare alle volte di offshoring, piuttosto che di outsourcing e varianti varie. Allora, alcune cose tra l'altro si intersecano, nel senso che l'outsourcing è, ok, faccio fare qualcosa a qualcun altro che tipicamente non è parte della mia stessa azienda. Quindi questa cosa si può sicuramente intersecare, spesso si interseca col fatto che questo qualcun altro è da un'altra parte, ok. Alle volte c'è questa condizione, alle volte non c'è. Offshoring, near-shoring, home-shoring, sono un po', diciamo, tre varianti. Offshoring, oggi lo intendiamo più tipo, lo faccio fare a qualcuno che è lontano, tipo dall'altra parte dell'oceano. A near-shoring lo faccio fare a qualcun altro che è magari a qualche centinaia di chilometri da qua. E home-shoring, che a me piace molto come concetto, lo faccio fare a qualcuno che lavora da casa sua. Quindi come convenzioni, diciamo, per questa sessione, teniamo il fatto che, se parliamo di un team remoto, le persone all'interno del team sono nello stesso posto. Semplicemente, tipicamente, sono da un'altra parte rispetto a noi o rispetto al resto dell'azienda. E su questo, tra l'altro, se parliamo di un team che è comunque remoto, ci dovremmo anche fare una domanda. Dove sta il business? Dove stanno i richiedenti di quel team? Perché, ok, se sono anche loro insieme con il team, effettivamente è un team remoto. Se la loro parte, business, è da un'altra parte, magari non è esattamente proprio un pieno team remoto. La variante di questo è quando, invece, c'è solo una persona del team che lavora da remoto. Questo capita anche spesso nelle aziende, magari temporaneamente, lavoro da casa o lavoro da un altro ufficio, da una sede, o anche non temporaneamente, per un po' di tempo. Però è una situazione diversa, ci sono delle dinamiche diverse rispetto al fatto che tutto il team sia remoto. Poi abbiamo un concetto che è quello dello sviluppo multi-site, interessante soprattutto per le aziende grosse. Quindi i membri del team sono collocati, condividono lo stesso spazio fisico, però abbiamo team diversi che lavorano sulla stessa code base, sullo sviluppo dello stesso prodotto, da posti diversi. Ancora, il concetto di team distribuiti. Un team lo definiamo distribuito quando, invece, le persone del team sono in posti diversi, non sono collocate nello stesso posto. Ciascuno lavora, si dice anche disperso geograficamente, quindi lavora da posti diversi. E abbiamo l'applicazione di questo modello a tutta l'azienda, parliamo di distributed company, un'azienda distribuita, ne vedremo poi anche alcuni casi, è l'intera azienda che adotta questo modello organizzativo, questo approccio. Anche qua è interessante perché, chiaramente, quando tutti all'interno dell'azienda facciamo le cose in un certo modo, è diverso rispetto al fatto che magari alcuni team lavorano in un modo, alcuni team lavorano in un altro, o magari i team, chiamiamoli così, di sviluppo, sono in un certo tipo di situazione, ma magari la parte, per esempio, manageriale, è in un'altra, e quindi anche la percezione che si ha e le sfide che si affrontano possono essere diverse. Ok, vorrei provare, vediamo se funziona, a interagire con voi con questo modello. ho un paio di momenti in questa prima ora. Allora, per chi di voi è davanti a un computer o comunque a un device dove può avere un browser e digitare da una tastiera o qualcosa di simile, vorrei provare per qualche minuto, per chi può farlo, chi vuole farlo, a capire un po' in che posizione siete voi, in che posizione vi trovate. Quindi, è una semplice survey che non ho fatto internamente al tool del webinar, quindi è su, semplicemente un Google Form. Ho accorciato l'URL per semplicità, quindi potete usare appunto bit.do.techday e tre domande che vi chiedono un po', da che parte state? Cioè, nel senso, vi trovate più tipicamente a essere un richiedente di qualcosa, un coordinatore di lavoro, un project manager, qualcosa del genere, o più qualcuno che implementa, che crea, quindi più un lato, diciamo, sviluppatore, nel senso anche ampio. Seconda domanda è quanto è grande la vostra realtà, la vostra organizzazione? E vi trovate ad avere a che fare con team remoti o distribuiti? Proviamo a prenderci un paio di minuti per rispondere insieme a questa cosa e vediamo cosa otteniamo. Grazie. 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 Ok, tra l'altro man mano se rispondete potete anche vedere poi le risposte che fanno gli altri alla pagina successiva. quindi abbiamo ok, abbiamo una grossa parte di una maggioranza di fatto che è più sulla parte di implementazione di sviluppo una parte di qualcosa sulla facilitazione qualcuno che fa il ruolo un po' del business in la distribuzione di aziende direi principalmente medio piccole se vogliamo definirle così in termini di persone che contribuiscono allo sviluppo del prodotto e orientativamente potrebbe essere in questo momento un due terzi di persone che sono vicine agli altri piuttosto che no. Ok, grazie grazie mille. mi sembra che stia funzionando discretamente bene e quindi questo ci interessa anche dal punto di vista di ok, magari è una sfida che sto affrontando piuttosto che è una sfida che potrei voler affrontare o potrei trovarmi ad affrontare e dall'altro lato la dimensione dell'azienda il tipo di azienda è una variabile fondamentale rispetto a questo tipo di discorso e l'altro ancora è ok, ma io nel mio ruolo cosa mi aspetta a cosa posso prestare più attenzione cos'è che potrebbero essere invece se vogliamo chiamarli così dei fattori di rischio ok next come come facciamo a a capire se sta funzionando bene questa è una domanda un po' generale ma nel nostro caso recliniamola sul come facciamo a capire che sta funzionando bene il nostro sviluppo distribuito cioè com'è che possiamo provare a misurare il successo del fatto che stiamo facendo le cose in questo modo proviamo a utilizzare la funzione delle domande dell'interno al tool che adesso cercherò di recuperare qua mi sono perso per eccolo qua se ci dovessimo chiedere appunto dei dei modi per misurare il successo cioè sta andando bene con questo team remoto sta andando bene questo prodotto che stiamo sviluppando così secondo voi che come possiamo provare a misurarlo questo questo successo vediamo se se prendiamo prendere due o tre domande qualcosa qualche nel senso qualche domanda qualche qualche suggerimento in verità sono delle domande sperando che voi possiate farle dal tool a meno che non debbano essere abilitate in qualche modo alla fine ok è possibile che ci sia qualcosa che manca a me sulla gestione delle domande risposte nel tool non è problema proseguiamo allora alcuni buoni buoni indicatori di capire che sta funzionando qualcosa quindi in particolare nel nostro caso come stiamo realizzando questo prodotto in modo distribuito possiamo chiederci chiaramente quanto stiamo consegnando quindi il nostro throughput la quantità di cose che stiamo realizzando in questo modo quanto velocemente consegniamo quanto quanto spesso il nostro magari il nostro la nostra frequenza di rilascio piuttosto che il nostro lead time cioè quanto ci impiega una cosa attraversare tutti i vari stati da quando è una richiesta quando c'è qualcosa che è online che funziona quanto è buono quello che facciamo quindi la la qualità del nostro prodotto quanto sono contenti gli attori coinvolti lato clienti stiamo deliziando i nostri clienti lato team le persone sono contente ovviamente un ottimo indicatore è il ritorno sull'investimento quindi rispetto a quello che stiamo investendo ci stiamo quanto stiamo quanto stiamo marginando che tipo di ritorno abbiamo e un'altra cosa chiaramente interessante che possiamo fare è riusciamo a compararlo rispetto a un approccio meno distribuito o non distribuito per capire se sta funzionando meglio rispetto ad esempio ad alcune di queste variabili chiaramente sono tutte cose che per loro natura in contesti più piccoli è più facile misurare nelle organizzazioni grandi è sempre più sempre più impegnativo però penso che a prescindere sono ottime domande che ci dobbiamo fare e sono ottime cose che sia in un contesto distribuito che in un contesto non distribuito dobbiamo cercare di avere di avere chiaro come stiamo andando rispetto a questi indicatori e per in qualche modo anche riassumerli o comunque vederli da un punto di vista di concetto molto a cuore che è molto a cuore insomma anche un po' in generale alla comunità agile misuriamoci rispetto alla nostra capacità di consegnare frequentemente velocemente del software di valore e di alta qualità di valore per il nostro business per i nostri utenti e di alta qualità sia esterna che interna quindi anche in termini poi di capacità di farlo evolvere e di farlo crescere ecco ci ci spostiamo su alcuni casi su alcuni casi concreti di aziende che sono in grossa parte totalmente distribuite e che sono sicuramente di successo e che addirittura si fanno in alcuni casi evangelisti di questa filosofia quindi qua abbiamo ad esempio la X37 Signals che adesso è Basecamp che è dietro allo sviluppo del prodotto anonimo nonché dietro alla allo startup alla creazione iniziale di Ruby on Rails e che è uscita proprio con un libro dove argomenta il perché loro lavorano in modo totalmente distribuito perché per loro questa cosa funziona bene e abbiamo anche un'altra azienda non altrettanto famosa come nome magari il cui prodotto è sicuramente famosa e di grande successo che è Automatic che è l'azienda che è dietro a Wordpress di fatto l'engine di forse addirittura la maggioranza dei siti web che sono in rete in questo momento e comunque insomma c'è messa assolutamente famoso e di grande successo e il terzo logo qua è di un'azienda un po' più piccola però anche molto bravi loro sono invece più sul lato UX Design Experience e Simple as Milk anche di nuovo alla fine delle slide che poi saranno disponibili anche in rete ci sono anche tutti i link alla letteratura quindi in alcuni casi a post nel caso di 47 Signals oggi Basecamp c'è poi il libro si può acquistare online e nel caso di Wordpress e di Automatic c'è un libro anche stato scritto c'è un un talk molto bello che è stato fatto a Better Software di quest'anno quindi c'è la possibilità anche di di vedere c'è Luca Sartoni che che lavora che lavora in azienda che racconta molto bene anche lo spirito oltre che il modo in cui si lavora in Automatic Alcuni piccoli spunti che ho estratto da quello che ci raccontano queste aziende ma sai delle persone dei lavoratori che lavorano molto bene da remoto sono semplicemente delle grandi persone dei grandi lavoratori e sì le aziende che diciamo così fanno menate o comunque si preoccupano hanno problemi col lavoro da remoto di fatto hanno problemi che hanno a che fare con la fiducia con la fiducia che hanno nelle persone e poi vabbè c'è un po' di classico il style management rispetto all'idea devo controllare le persone se non le vedo non le posso controllare cosa fanno se sono a casa loro ci sono addirittura delle ricerche sul fatto che le persone giocano anche a videogiochi o guardano youtube o facebook anche in ufficio se vogliono e a prescindere da quello veramente non vogliamo contare la quantità di ore che una persona sta davanti al monitor o la quantità di tasti che schiaccia o di linee di codice che scrive e quindi se non ci sono le condizioni per essere produttivi per essere per portare valore in azienda possono benissimo non esserci anche in ufficio non è sicuramente il fatto di di lavorare da remoto che causa eventuali problemi in tal senso e qualche altro esempio che è grossa famosa blasonata github praticamente totalmente distribuita anche se hanno alcuni uffici dove chi vuole può stare comunque in uno spazio comune per lavorare e buffer che ha un'applicazione su social media marketing social media anche di successo azienda un po' più piccolina è una realtà che probabilmente molti di voi conoscono molto bella italiana che ha ideato che è una chiamo così una software house per usare un nome un po' vecchio però insomma un'azienda un team di persone che sviluppano software assieme ai loro clienti e assieme ad altri partner e che non è in una modalità totalmente distribuita ma come raccontano bene anche in un in un loro post e l'ha raccontato Francesco Fullone in una sua presentazione a un evento comunitario la loro volontà di crescere li ha portati a passare da una situazione in cui tutti lavoravano insieme nello stesso ufficio al fatto che alcuni sono in quell'ufficio e altre persone invece sono sparse in giro in altri spazi in Italia piuttosto che in altre località e quindi come hanno evoluto il loro modo di lavorare di organizzarsi per affrontare questa sfida bene di nuovo vorrei provare un'altra cosa con voi secondo voi cosa sono i i fattori di successo cosa sono le cose che fanno la differenza quelle che appunto quelle che possono fare la differenza quelle che i fattori chiave allora questo quest'altro indirizzo accorciato bit.do slash funziona c'è una pratica una board condivisa una una lavagna condivisa ok qui non sapevo una cosa che ho sempre usato con un team piccolo di persone e adesso mi dice guarda ci sono più di 16 persone che non possono editare la board nello stesso momento se vuoi avere più di 16 collaboratori giustamente guarda la versione premium quindi adesso vediamo se se tra qualche secondo mi fa rilogare giustamente non l'avevo testato con così tante persone insieme dice pad is full ok ok quindi lasciamo ancora qualche secondo a qualcuno per provare comunque se qualcun altro come me sta provando andare sull'indirizzo e vi dice guarda è pieno portate pazienza un attimo poi per chi ha voglia lo può anche fare tra qualche minuto anche a me fa piacere poi collezionare quello con cui stiamo uscendo insieme come idee come contributi dalla 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 sessione ok intanto che qualcuno scrive qualcun altro diciamo così sta in coda aggiungo un po' di di altre cose che arrivano dalle trincee se vogliamo chiamarle così quindi di cose che che queste aziende che ci stanno provando veramente che lo stanno facendo che stanno anche riflettendo sul modo in cui lo fanno hanno voluto condividere l'importanza di avere una comunicazione che funziona e quindi di nuovo è una comunicazione a banda larga che funziona bene è uno dei nostri principi veramente importanti per fare le cose bene oggi in modo collaborativo in modo di successo quindi se siamo in un contesto con la comunicazione mediata dal computer contesto distribuito sicuramente vogliamo dotarci anche di strumenti appropriati per supportare una comunicazione sincrona quindi real time in cui insieme facciamo qualcosa insieme condividiamo qualcosa a sincrona quindi dove man mano offline ciascuno può contribuire non abbiamo bisogno di essere nello stesso spazio virtuale nello stesso momento e di storage quindi invece di condivisione dei nostri assets che sia il codice che siano altri tipi di artefatti documentazione e quant'altro in modo insomma strumenti che ci aiutino a farli nel modo più più leggero efficace possibile e viaggi frequenti qua poi i punti di vista sono anche maggiormente diversi che è interessante ad esempio i ragazzi di base camp dicono no ma noi ci vediamo alla fine due o tre volte all'anno è molto anche in base alla mia esperienza dipende veramente tanto dal contesto dipende le cose si legano ci dipende da quanto si conoscono le persone da quanto riescono comunque a stare sulla stessa pagina sentirsi parte della stessa cosa e lavorare bene insieme anche senza senza vedersi tanto spesso però è importante che le persone si conoscano che si vedano ogni tanto almeno faccia a faccia e quindi se in particolare lavorate in un'azienda grande magari questo invece capita che sia un po' un vincolo del tipo ah no facciamo partire quella cosa però non ci vediamo per sei mesi o lavoriamo per sei mesi con qualcuno che non abbiamo mai visto in faccia le persone persone brave capaci talentuose e committate che ci credono che condividono lo stesso sogno la stessa visione gli stessi obiettivi il rispetto rispetto banalmente per le diverse time zone se lavoriamo in un contesto dove gli orari del giorno sono diversi e per le culture diverse questo è un tema affascinante su cui non entriamo tanto non entriamo nel dettaglio oggi però sicuramente è un tema da tenere in considerazione così come all'interno di un team in generale è vero lo hai maggior ragione se lavoriamo con altre nazioni con team che siano in Asia piuttosto che in altri posti dove magari la cultura è anche molto diversa dalla nostra c'è un bello un bello un bello speech linkato dalle ultime slide anche su questo tema e avere dei team che come dimensioni come mix di competenze siano ben ben mixati questo in particolare è importante se siamo in un contesto di offshoring un'azienda magari un po' grandina e magari pensiamo che abbia senso mettere tutti gli sviluppatori da qualche parte quindi tipo in remoto e invece avere non so la parte di analisi piuttosto che la parte di più manageriale di coordinamento in sede da una parte quindi cercare che nelle varie località il team possa essere più cross funzionale possibile common ground inteso come una condivisione anche di quello che è il dominio e in generale rendersi conto quanto è importante verificare questa cosa qua che è un attimo a perderla soprattutto nei contesti di nuovo grandi se distribuiti l'apertura intesa quindi anche come tutto è visibile a tutti la trasparenza che è un modo potentissimo per esercitare il controllo e la fiducia fiducia delle persone l'una nelle altre membri del team per me se dovessi provare a riassumere in due parole cosa fa la differenza perché quei signori che abbiamo visto prima ce la stanno facendo e fanno bene e fanno successo e fanno contenti i loro clienti e fanno possibilmente anche dei profitti importanti hiring 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 quindi il modo in cui selezioniamo le persone il modo in cui portiamo delle altre persone sulla nostra barca quindi il tipo di profili e come dicono dicevano forse in un libro precedente i ragazzi di Basecamp prendi qualcuno solo quando ti fa veramente male quando non ce la fai e quindi no buttare dentro la gente no male 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 buttare dentro gente a caso e quindi se le persone fanno la differenza e le persone fanno la differenza è chiaro che un punto cruciale è portarci a bordo delle persone che vadano bene per il nostro team per la nostra iniziativa e managing quindi gestione quindi che tipo di management ci aspettiamo che tipo di leadership ci aspettiamo o interroghiamoci su che tipo di management e che tipo di leadership hanno queste aziende che stanno facendo vedere che loro riescono a lavorare bene in questo modo distribuito management che vuole controllare che è top down che è se non ti vedo non so quello che fai che è importante che fai tanto facciamo di più ti dico io cosa devi fare tu esegui o magari come ovviamente è è un management più veramente orientato al quando vediamo una visione creiamo una una condizione perché le persone possano lavorare bene diamo autonomia a fronte di un purpose degli obiettivi condivisi coltiviamo la crescita delle persone brevemente vorrei aggiungere qualche qualche esperienza mia in questi anni in contesti anche 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 molto diversi e se vedete insomma nell'ultima colonna ho un po' sommarizzato quello che è in base anche alla mia percezione non è un po' il livello di successo di queste iniziative quindi sono casi in cui numeri anche diverse di persone sono state coinvolte in iniziative che vanno a che fare con con team remoti e vedete poi anche le diverse dimensioni dell'azienda sono cose che alle volte hanno funzionato bene meglio alle volte veramente molto male e brevemente appunto partendo dal primo caso io ero in una situazione di di coordinamento in quel caso l'idea era stata di prendere dei freelance online e un'azienda era piccolina veramente ha funzionato male c'è stato tantissimo vredo di comunicazione e eravamo veramente inesperti rispetto a questa cosa qua e penso che probabilmente l'abbiamo fatto per un motivo sbagliato nel senso che l'idea era spendere un po' meno soldi in verità gli risultati sono stati scarsi abbiamo investito un sacco di tempo noi e c'è stata anche abbastanza frustrazione poi è funzionato peggio con la stessa azienda che nel frattempo è cresciuta un pochettino l'idea di prendere non dei freelance online ma un team remoto in un altro paese al sud dell'Europa e io mi sono trovato in quella situazione a fare la parte diciamo del business nel senso che facevo un po' da proxy rispetto a quello che erano i clienti esterni che c'erano qua in Italia con questo team di sviluppo molto giovane con difficoltà linguistiche con degli strumenti di comunicazione poveri senza nessun contesto né di dominio di business e anche po' contesto da un punto di vista delle nostre scelte tecnologiche c'è stato un investimento di alcune decine di migliaia di euro che però sono stati veramente quasi buttati via poi invece ho avuto il piacere di osservare un'azienda grande che con una partnership con un'altra azienda importante ha dall'Australia aperto un centro di ricerca e sviluppo in Cina e ha più di 70 persone sono coinvolte in termini di team quindi vari team che sviluppano da questo centro di ricerca e sviluppo e insieme di fatto sono partiti come dei team remoti e poi sono diventati dei team distribuiti con metà del team in Australia e metà in Cina e tra l'altro metà persone dell'azienda e metà outsourcing anche se è un outsourcing molto bello molto potente molto una partnership e questa cosa ha funzionato bene è cresciuta funziona bene c'è ancora ci sono parecchi cioè c'è un investimento grosso parliamo di milioni di euro in ballo e loro sono proprio bravi però se penso alle due cose che dicevamo prima c'è l'Iring che fa questa azienda che li sta affiancando nella delivery è spettacolare la loro cultura manageriale è anche assolutamente all'altezza e l'altra azienda ha anche proprio capito come può fare a gestire questa cosa e lì vicino c'è nel senso come caso io questo questo dei ragazzi australiani di fatto l'ho proprio visto cioè non ci ho partecipato direttamente ho partecipato direttamente invece quello sotto e con la di fatto la country italiana di questa azienda noi siamo partiti anche noi con un team poi sono inventati due e ha funzionato per noi molto bene rispetto a quelle che erano anche le aspettative ma sicuramente meno bene meno potente di quello che stanno facendo i colleghi e la società è la stessa le persone sono bravissime anche con noi siamo noi che eravamo veramente un po' più scarsi soprattutto rispetto alla nostra idea di come possiamo supportare questo team remoto a lavorare bene per noi e tanto anche in termini di di cultura manageriale italiana in azienda da questo punto di vista poi io ho una diciamo side project che porto un po' avanti la sera con delle altre persone e che l'anno scorso ha coinvolto quattro persone totalmente distribuiti io faccio un po' più di 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 business cioè sono un po' più il lato business su questa cosa parliamo di qualche decina di migliaia di euro niente di grosso ed è una cosa che 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 funziona bene che io di cui io sono sono contento potrebbe sì potrebbe funzionare meglio però e c'ho anche qualche idea che potrebbe funzionare meglio però diciamo che questo ha molto a che fare anche con fare con quello che si può quindi io sono spostato dalla città dove ero per per seguire il lavoro per inseguire il lavoro e rispetto a questo progetto l'avere distribuito era per me l'unica l'unica soluzione che era percolibile in quel momento quindi all'inizio l'ho un po' sofferto poi ci siamo un po' aggiustati in generale siamo contenti e per per chiudere altri un altro paio di casi che uno sto partecipando uno sto vedendo di nuovo un'azienda un'azienda grossa multinazionale italiana e la fatica invece di di lavorare in off-shoring a fronte di un approccio che a cui mancano un po' gli ingredienti di cui parlavamo prima in termini di soprattutto di politiche di hiring e in termini di cultura manageriale quindi ritorno sempre su questi sono un po' gli elementi che fanno la differenza che poi si declinano in tante cose pratiche e quindi brevemente per raggiungere qualcosa alla storia cinese è paradigmatico la differenza tra management australiano e quello italiano il fatto che si è dotata di un tool molto potente di videoconferenze e di condivisione dello spazio quindi un grande monitor una camera anche molto potente orientabile eccetera e la modalità in cui è stata installata nello spazio in Cina è stata ok è in fondo al tavolo del team vicino alla board del team è sempre accesa la stessa cosa è stata fatta in Australia e questa cosa è di una potenza incredibile io stesso all'inizio non l'avevo colta ma poi l'ho vista funzionare e questo loro hanno creato una specie di continuità spaziale quindi come se fossero due metà dello stesso ufficio la camera inquadra il tavolo se qualcuno dall'altra parte ha bisogno fa un cenno se qualcuno deve poi parlare qualcosa a voce si avvicina o va in un'altra stanza utilizzano per fare dei meeting giornalieri degli stand up condivisi in generale al di là del momento del meeting proprio per una questione di senso di appartenenza condiviso e in Italia quindi ci hanno dato anche a noi questa cosa e noi l'abbiamo messa in una sala riunioni l'abbiamo messa in uno spazio del team nostro no perché così poi è meglio poi sai così la usano anche i manager ma quando dovete fare i meeting andate là ah ma è inutile che sia accesa tutto il tempo ah sì va bene che noi guardiamo loro ma loro cosa devono guardare qua magari ci sono cose che non gli interessano e quindi un piccolo dettaglio ma che insomma la dice lunga su differenze proprio di di approcci e quindi vorrei menzionare quelle che per me sono di fatto dei fattori di igiene questo termine rispetto anche al management le organizzazioni penso che venga da Jürgen Appel o comunque lui lo lo utilizza e l'idea sì ok ci sono alcune cose che potenziano fanno sì anche che questo tipo di approccio un altro tipo di approccio lo sviluppo del prodotto possa essere più potente da performanti diciamo diventiamo super performanti miglioriamo sempre ma ci sono alcune cose che se non ci sono sono di cosa stiamo parlando e quindi ad esempio per lavorare bene con un team distribuito se non abbiamo una connessione decente se non abbiamo degli strumenti è impossibile pensare che possa funzionare bene soprattutto se vogliamo avere un approccio moderno se se non siamo in grado di parlare la stessa lingua se non ci poniamo il problema che dobbiamo avere un obiettivo comune e dare autonomia se stiamo facendo questa cosa ma poi abbiamo l'ansia che non vediamo queste persone quindi chissà cosa stanno combinando se cerchiamo di misurarle su qualche indicatore che non ha senso non possiamo andare da nessuna parte e quindi per me insomma man mano che leggevo che studiavo in queste settimane qualche approfondivo qualche 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 paper trovavo un sacco di riscontri cioè che poi un'azienda si chiami agile non si chiami agile veramente non cambia nulla però i principi sono sono quelli che lo facciamo dello stesso spazio che lo facciamo distribuiti possono cambiare le pratiche abbiamo bisogno di strumenti o altre cose specifiche in aggiunta o in sostituzione ma principi di ispezionare frequentemente adattarci di avere dei cicli di feedback corti di avere una collaborazione un lavoro di team sono quelli restano quelli quindi volete distribuirvi volete provare l'avventura l'emozione del lavoro distribuito ok fatelo per le giuste ragioni ho chiesto una delle mie reti di supporto che è la comunità di webdebs che ha un gruppo su facebook oltre che ci troviamo ogni tanto di persone un po' di loro punti di vista rispetto a quello di cui volevo parlare oggi e Massimo Massimo Sgrelli una delle persone che partecipano ha detto ok allora la verità secondo me è che oggi è l'unico modo per per attrarre cioè per costruire un team di talenti cazzo questo è un bel motivo per se vuoi fare un team distribuito cioè se lo vuoi fare perché c'è più talenti a disposizione se lo vuoi fare ne parla ideato per tenere alta la qualità della vita delle persone che sono coinvolte nel tuo team se lo vuoi fare per ti rendi conto che buttate via un sacco di soldi a fare commuting e potete lavorare da posti diversi figata se lo fai perché ad esempio aprendo le persone di là perché là costano meno quindi siamo quasi quasi in in conclusione un paio di tips per i professionals per quelli che sono già molto molto avanti come magari quelli che abbiamo visto prima ricordiamoci comunque che lo sviluppo del software è un gioco collaborativo sono dei bei libri di Coburn su questo e c'è anche un bel paper dove raccontava questa cosa e quindi questo fare le cose insieme in questo modo va alimentato anche se non siamo faccia a faccia seduti uno di fronte all'altro con cui interroghiamoci su quali dinamiche eventualmente si indeboliscono stiamo attenti a questa dimensione e learning nel senso che vogliamo imparare insieme cioè vogliamo continuare a imparare è fondamentale che impariamo e vogliamo possibilmente farlo insieme farlo come team oltre che come individui e quindi se ad esempio ci sono delle pratiche penso al pair che sia sulla programmazione o sul fare altre cose anche sul fare l'analisi anche sul fare una presentazione anche su fare in generale il modo in cui impariamo condividiamo questa conoscenza all'interno del team è una chiave per il nostro successo successo nostro e il successo dell'azienda sul medio lungo e quindi domandiamoci sempre anche da un punto di vista dell'imparare come possiamo trovare i modi migliori per farlo anche se non siamo seduti uno accanto all'altro per tutti noi altri funziona ma secondo me direi che funziona che se state lavorando con qualcuno e siete collocati ragionevole assumere che potreste lavorare bene anche se siete distribuiti e il mio consiglio è il miglior modo per testare la vostra assunzione è fare un esperimento è chiaro le persone le interazioni tra le persone sono sempre più importanti dei processi degli strumenti quindi sono loro che fanno la differenza alla fine e per i grossi questo è un autore che mi piace molto lo dice ok io qualche anno ho lavorato su contesti grandi multisite offshore combinazioni di queste cose e dalla nostra esperienza questo lo dice a pagina 1 di questo libro il nostro consiglio è non fatelo dopodichè dice vabbè ma tanti di voi lo faranno lo stesso per una serie di motivi e quindi cerchiamo di darvi una mano cultura aziendale non so se vuole una buona persona da andare a lavorare da casa non so se il suo capo è la persona giusta per capire come gestire questa cosa o certo se mandiamo facciamo lo sviluppo software in Elbonia perché le persone poi costano di meno ok magari non hanno i computer però possiamo sempre mandare Dilbert a insegnargli qualcosa magari COBOL loro non hanno i computer lui non sa cos'è COBOL ma possono sempre fare finta e quindi Craig Larman a continuazione della frase di prima dice ok non dovreste farlo perché non dovreste farlo perché ci sono modi migliori per costruire dei grandi sistemi piuttosto che mettere tanti sviluppatori in tanti posti piuttosto cioè costruite un gruppo piccolo di ottimi sviluppatori e di altri talenti che possano lavorare insieme in team pagateli bene teneteli insieme nello stesso posto insieme a product management comunque ti rappresenta la voce del cliente quindi per per concludere lo sviluppo di prodotto è facile in un contesto collocato magari può aver senso capire a che punto siete come azienda come team nel vostro viaggio rispetto alla fluency e muovervi di conseguenza e quindi la vostra effettività la vostra capacità effettivamente di sviluppare bene un prodotto in un contesto distribuito è probabilmente molto più un indicatore della agilità tra virgolette della vostra organizzazione più che un abilitatore e come sempre consiglio volete fare qualcosa provateci fate degli esperimenti quindi qua ci sono un po' di riferimenti a risorse che siano libri piuttosto che post articoli video e appunto le slide poi sono anche su slide share e sono principalmente le cose che ho citato in questi 50 minuti più qualcosa d'altro compreso una bella serie di podcast e dico solo per chi potesse essere interessato su questo stesso tema Joanna Rothman tiene un webinar il 27 gennaio che parla proprio di 7 tip quindi 7 consigli per suggerimenti per migliorare il lavoro del vostro team distribuito non so Joanna Rothman di cosa parlerà nello specifico il tema è questo lei è molto brava il webinar è gratuito è un po' menosa la registrazione sul sito di chi lo organizza ma può essere uno spunto interessante è stato veramente un piacere un onore per me essere con voi stamattina ci si vede in giro qua ho messo qualche data di qualche conferenza a CodeMotion di Roma io ne ho proposto una sessione non so ancora se la terrò idem BetterSoft a Firenze più avanti in autunno ci sono altri eventi in giro ci sono gruppi online insomma per me il mio locale globale di riferimento web devs su questi temi se ne può parlare sicuramente anche sulla mailing list di extreme programming italiana e sui gruppi di LinkedIn in particolare l'inagile Italy io veramente ringrazio tutti ringrazio di nuovo a crew del CodeMotion per aver organizzato questa giornata godetevi il resto del Tech Day se avete voglia di darmi del feedback specifico per la presentazione un altro short tour un altro tour online per fare un piccolo perfection game bit.do slash meglio se volete entrare in contatto con me pingarmi at carlos su twitter e that's it grazie ancora a tutti io ho praticamente terminato vediamo se c'è diciamo un minuto due minuti se riesco a interagire qua con il con il tool delle domande forse riesco a prenderne una se no semplicemente ringrazio tutti sono a disposizione di nuovo godetevi la giornata e buon proseguimento con questa questo questo Tech Day io sono appunto ancora online fino a ancora un minuto o due per prendere questa qualche domanda eventualmente dopodiché sono pronto per ridare la parola ah ok mi dicono ci sono un po' le domande che ah ok erano sotto la mia ignoranza di utilizzo del tool il materiale sarà disponibile per il download sì questi slide sono sicuramente su slide share oggi più nel dettaglio seguo le organizzazioni del lavoro diciamo di solito un cliente alla volta quindi supporto un'organizzazione del lavoro dell'area tecnologia delle aziende quindi per la parte di coordinamento tra team in alcuni casi anche con team remoti o semplicemente gestione di programmi portafogli di progetti oppure semplicemente aiutare le team e l'azienda a capire come migliorare la loro organizzazione per quello che dice Simone rispetto al fatto Vtab per i sorgenti distribuiti sì penso che sicuramente possa andare bene ci sono tra l'altro varie piattaforme che si possono utilizzare volutamente oggi non sono entrato nei dettagli sui tool c'è sicuramente tantissimo 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 a disposizione e quindi direi che ringrazio ringrazio ancora tutti e tutte e tutti buon proseguimento di giornata e alla prossima ringrazio Grazie a tutti